salve a tutti con questa rubrica cercheremo di scoprire e riscoprire alcuni degli interpreti della canzone napoletana del novecento un'operazione difficile visti i tempi ma ci proviamo questa puntata è dedicata ad un grande signore della canzone mario abate al secolo salvatore abate mario abate nasce a napoli l'otto agosto del 1927 per le sue capacità canore inizia a lavorare con il nome di salvatore abate all'età di nove anni quando viene scelto per cantare la sigla della settimana income nel primo cortometraggio a colori del cinema italiano sosta d'eroe debutta per la prima volta col nome mario abate nel 1948 al teatro biondo di palermo dove nino taranto gli affida l'esecuzione di guano tramonto sole di ferdinando russo e salvatore gambardella nel 1951 dopo aver presentato la canzone malafemmina di totò presentata alla piedigrotta la canzonetta vince un concorso alla rai che gli dà la possibilità di cantare nell'orchestra del maestro cinico angelini e di registrare centinaia di dischi per la casa discografica bis radio nel 1953 partecipa al film e napoli canta nel 1954 torna al cinema nel film accadda al commissariato partecipa al festival di napoli per 12 volte la prima nel 1958 l'ultima nel 1970 nel 1962 raggiunge il terzo posto con nuttate luna nel 1963 si aggiudica il secondo posto con indifferentemente nel 1965 rientra nella classifica dei finalisti redatta dal corriere di napoli di tv sorrisi e canzoni con la canzone coro napolitano nel 1970 ottiene il terzo posto con amadonna del rose partecipa al festival di san remo per due volte nel 1962 e nel 1963 partecipa varie volte a un disco per l'estate nel 1964 nel 1965 nel 1966 nel 1968 e nel 1974 e tra i protagonisti di canzonissima nel 1964 nel 1966 e partecipa al cantagiro nel 1965 nel 1964 partecipa ad una tournée in america e negli anni 70 sarà in canada russia spagna germania germania francia e nuovamente in america si dedica con grande successo al teatro dove protagonista di numerose sceneggiate sia dell'epoca d'oro degli anni 40 50 sia della ripresa degli anni 70 una gloriosa carriera che si interrompe prematuramente il 6 agosto del 1981 quando muore all'improvviso a napoli ci sarebbe tanto da aggiungere ma il tempo a disposizione è finito fortuna che c'è internet vi invito a cercare le canzoni su youtube vi invito a cercare nelle enciclopedie che parlano della canzone napoletana e dei suoi interpreti per mario abbate vi invito a visitare la pagina ufficiale di facebook in più il libro mario abbate navitan me core scritta dal figlio mario abbate junior nel 2018 il documentario mario abbate navitan me core dello stesso anno in più il figlio massimo abbate dal 2015 porta avanti il festival di napoli new generation per quanto riguarda i riconoscimenti nel 2012 mario abbate ha ricevuto dal popolo una targa sulla sua casa natale e inoltre nel 2021 al vomero è nato largo mario abbate per chi volesse vedere questa puntata ed altre può farlo visitando i social e con questo ci salutiamo dando spazio alla voce e ricordate la memoria ci salverà dall'omologazione penso grazie per la visione e alla prossima stata va buona per la visione e alla prossima Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.